Da Ambrogio Lorenzetti a Sandro Botticelli è la mostra ospitata dalla Galleria Moretti in piazza Ottaviani 17 Rosso fino al 29 novembre 2003 Una mostra intensa, raffinata, articolata intorno a 30 dipinti di cui molti inediti La raccolta copre un lungo e fervido arco di tempo dalla fine del XIII all'inizio del XVI secolo offre opere di artisti particolarmente significativi quali Taddeo Gaddi, stretto allievo di Giotto Ambrogio Lorenzetti, pittore tra i più interessanti del Trecento e Sandro Botticelli fondamentale figura del rinascimento italiano Da Ambrogio Lorenzetti a Sandro Botticelli, Francesca Sarti, C10